Cigno ad Avezzano, brutto natroccolo all'Angelini. La metamorfosi del Chieti è stata evidente. Un passo indietro per certi versi inatteso, perché oltre alla sconfitta è mancata la prestazione. Naturalmente c'è anche il merito dell'avversario. Un Fossombrone sceso in Abruzzo con le idee chiare. Squadra corta e compatta, brava a presidiare le corsie offensive neroverdi ed evitare gli inserimenti dei centrocampisti, aspettando il momento propizio per colpire. Con un tempo a disposizione però il Chieti non è stato capace di imbastire azioni per pareggiarla. Anzi, è stato il Fossombrone a sfiorare in un paio di occasioni il raddoppio. Il gnoffo cambia pochissimo, ad eccezione di Servalli tra i pali. Per l'infortunio di Mercorelli, fiducia agli stessi giocatori che tanto bene avevano fatto ad Avezzano. Anche la squadra marchigiana però aveva vinto bene alla prima, 4-1 casalingo contro il Teramo. In campo c'è l'ex Broso a far coppia ad attacco con lo spauracchio Casolla. Mister Fucili ne cambia due inserendo Bucchi e Camilloni, quest'ultimo l'uomo che ha deciso il match. Dirige Buzzone di Enna al cospetto di uno stadio carico di aspettative di oltre 2.500 spettatori. Prima mezz'ora di marca neroverde. Secondo minuto ci prova subito Capitano Forgione, conclusione fiacca e centrale. Poco dopo il pericolo maggiore. Su tiro di Cordova, Bianchini non trattiene ma l'azione sfuma. Diciottesimo ancora Chieti in avanti, traversone di Forgione, inzuccata di Fall, parata. Il Chieti continua a macinare gioco senza peraltro sfondare e così si arriva al 45esimo. Punizione dalla tre quarti per il Fossombrone, spizzata smarcante per la testa di Camilloni che insacca alle spalle di Servalli. Una doccia gelata per giocatori e tifosi neroverdi. Con le immagini di Nico Centurame passiamo alla ripresa. Settimo minuto, il gnoffo manda in campo Touret e un esordio per l'esterno d'attacco che va a sostituire Oddo. Il Chieti però non riesce a trovare gli spazi giusti per impensierire il Fossombrone. Entra anche di Dio per Gibilterra, ma la sostanza cambia poco. Anzi, al ventitresimo sono gli ospiti che potrebbero chiuderla con Casolla che approfitta di un pasticcio difensivo e conclude con una fucilata che colpisce il palo. Il Chieti reagisce tre minuti più tardi con Forgione, senza fortuna. Poco dopo, su corner, Cagliazza anticipa tutti, ma colpisce male. Trentatresimo, Fossombrone pericolosissimo con Chiere Mateng appena entrato. L'ex Teramo, che forse si libera per il tiro con un fallo, costringe Servalli ad un grande intervento. Non accade più nulla. Il Fossombrone vince ancora. Il Chieti invece fa un passo falso, evitabile, ma che può essere utile a patto di capire gli errori commessi.